Sono gli adulti del futuro, sono la nuova generazione sulla quale noi dobbiamo investire. Bullismo, un fenomeno che le istituzioni non devono trascurare, secondo il presidente del Veneto Luca Zaia, che dopo l'ennesimo caso accaduto a Padova lancia la sua proposta per arginare la dilagante violenza tra giovanissimi. Non deve essere la pena da carcere, ma deve essere la pena del contrappasso dantesco. E quindi hai fatto atti di bullismo rispetto ad alcuni temi sociali, evito di star qui a dirli, visto che ho avuto anche contatti con delle mamme, bene, andrei a fare volontariato in una casa di riposo, andrei a fare volontariato in un centro per disabili, andrei a fare volontariato dove ci sono le donne che hanno subito violenza, che hanno bisogno di aiuto. Così si fa. Questo secondo Zaia però non deve sostituirsi alla funzione educativa delle famiglie. Le famiglie devono sapere che l'educazione deve essere in capo a loro, non è che possiamo sempre dire che ogni roba che succede è colpa del pubblico, dell'istituzione, essendo di discorsi che non stanno in terra. Dall'altro noi come istituzione dobbiamo agevolare le famiglie finché il percorso sia corretto. Perché secondo il governatore solo la realtà dei fatti può generare consapevolezza tra i giovanissimi in cerca di identità. È il volontariato. Se non capisci ti porto a vedere in terapia intensiva i tuoi coetanei come stanno, perché magari i poveri hanno avuto qualche malattia o qualche guaio nella vita e non possono avere la libertà che hai. Quindi la tua libertà utilizzala in maniera pulita, educata, perché altri soffrono perché non hanno la tua libertà.